Siamo davanti a un momento di cambiamento epocale nella geopolitica e nella geoeconomia mondiale. È un momento in cui da un lato abbiamo una guerra in Europa e dall'altro abbiamo un'economia mondiale che purtroppo soffre pesantemente a causa di questa guerra sia in termini di prezzi di energia e inflazione sia in termini di deglobalizzazione sia in termini di problemi con la catena di fornitura. Quindi ci sono tanti problemi creati. Ma siamo anche nel momento in cui la guerra meno ufficiale non è contro l'Ucraina ma contro i valori dell'Europa, contro i valori della democrazia liberale in Europa. E qui si vede il fenomeno di trumpismo anche in Europa. Nel mio paese, gli Stati Uniti, Joe Biden è riuscito a fermarsi in modo forte e a mio avviso è uscito dal midterm elections più forte che mai, più deciso che mai. E chi vuole portare avanti la narrativa in Europa che Joe Biden è rincoglionito o in qualche modo solo un gaffer o un goffo, non è giusto perché gli americani hanno deciso che non vogliono più avere a che fare con Donald Trump che fra l'altro oggi annuncia la sua candidatura per la Casa Bianca. Il punto di partenza per me è il messaggio non del tutto confortante che alcune cose non torneranno mai come prima. Allora, innanzitutto la guerra di Putin fermerà quando Putin smette di bombardare i civili in Ucraina. Gli ucraini hanno ripreso il 50%, la metà del territorio che Putin aveva preso da febbraio. E quindi io temo che avremo una guerra semicongelata in cui durante l'inverno ci saranno una serie di conflitti a bassa densità, in cui non si trova facilmente la risposta e la pace, in cui Putin stesso ha sempre più difficoltà all'interno del Kremlino, questo si comincia a intraprendere e capire. E quindi il punto di partenza è che non avremo finché c'è Putin un rapporto normale con la Russia di nuovo. Numero due, abbiamo capito che se vogliamo un'Europa elettrica, con l'auto elettrica e la sostenibilità, dobbiamo anche produrre le batterie di litio che sono prodotte in Cina. E quindi in America Biden ha fatto 50 miliardi di dollari di nuovi investimenti per creare nuovi stabilimenti per il semiconduttore. L'Europa deve anche arrivare a essere più autosufficiente. Credo che la diversificazione delle fonti di energia, da Russia a altrove, e anche l'arrivo dei rinnovabili, sarà tutto accelerato da questa guerra. E poi c'è il ruolo della Cina, dove Trump ha fatto una politica molto aggressiva contro la Cina, Biden l'ha continuata. Sono incoraggiato, in senso positivo, che a Bali, al G20, finalmente Biden ha adottato un approccio diplomatico in cui non si attacca pubblicamente la Cina, ma si ragiona in privato sui temi che sappiamo esistono dall'economia al clima, ai diritti umani. Ma la lezione qui è che si ottiene di più nella politica internazionale quando si parla in privato e non facendo provocazione. Un esempio negativo è Giorgio Meloni e Matteo Salvini, è il fatto che hanno provocato, quasi studiato a tavolino, una crisi dei migranti, un conflitto diplomatico con la Francia e un isolamento dall'Italia in Europa. dopo due settimane di governo. E questo mi dispiace molto perché l'Italia è passata dal più grande statista del XXI secolo, se non da tanto tempo, il Mario Draghi, il più grande illustre statista, un prestigio per l'Italia importante, ha un paese che adesso si mette insieme con Cipro, Malta e la Grecia per attaccare l'Europa sui migranti. Cipro, Malta e la Grecia. E gli ammiratori del governo italiano sono in Ungaria e in Mar-a-Lago, in Florida. E quindi temo che c'è un errore di tempistica da parte dell'Italia, perché mentre in America Biden è forte, in Inghilteria i laboristi tornano, in Germania c'è un socio-democrazia, in Francia c'è Macron moderato, in Italia c'è ancora il fallito trumpismo che oramai è screditato pure negli Stati Uniti e potremmo averlo per cinque anni dall'Italia. E questo secondo me danneggia l'interesse dell'Italia e dell'Europa. Beh, innanzitutto distinguerei perché c'è una grande differenza tra piccolo San Marino, piccolo Andorra e Monte Carlo. Monte Carlo è un paese molto più importante, con capitale e forza economica molto più importante di San Marino o Andorra, quindi il fatto che questi tre si siano messi insieme, capisco il perché, ma è Monte Carlo di cui vorrei rispondere, non gli altri. San Marino credo che abbia delle grosse difficoltà e avrà difficoltà nei rapporti con l'Europa. Mentre Monte Carlo, secondo me, Monaco ha più chance di trovare un via di mezzo e fare un accordo con l'Europa che può essere di beneficio reciproco. Che non vuol dire che Monte Carlo deve smettere di essere Monte Carlo, vuol dire trovare le cose in comune su cui si può collaborare. Seppure la Svizzera, che è stata per sempre neutrale, adesso si schiera sempre di più con il gruppo Schengen e con l'Europa, anche Monte Carlo.